Scendono in campo le squadre di Alma Juventus Fano in maglia bianca e Delta Porto Torrio Rovigo in maglia blu con banda bianca. Buon pomeriggio, di nuovo buon pomeriggio da Sergio Catalani in questo torrido pomeriggio di giugno. Marconi che ha la meglio, il tocco verso Sivilla, la palla è buona per Sivilla, 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 Andrea, Sivilla! Sivilla, Sivilla, Sivilla! Marconi prova a innescare Gucci, può essere andata dalla destra, il tocco, attenzione ancora a Marconi che mette nel mezzo e c'è l'autogol! Autogol! Autogol! Alma Juventus Fano 2, Delta Porto Torrio 0. Marconi che avanza c'è Nodari libero il tocco verso Gucci la palla è buona Niccolò Niccolò Gucci Gucci Nodari Nodari sbaglia il 3 a 0 giochetto di Davide Borrelli il fallo su di lui l'ammunizione attenzione è rosso ed è rosso connessione di Borrelli intanto c'è il colpo di testa e la palla che si insacca è lui Alex Nodari il capitano il capitano Clemente va giù intanto il fallo subito da Clemente prestazione strepitosa di Clemente ora può entrare l'olofatica secondo cartellino rosso è il fisco del direttore di gara 3 a 0 per l'Alma l'Alma batte il delta portatore vuole accedere la semifinale tra gli applausi del pubblico